Guanti da lavoro, pettorina gialla e soprattutto tanta buona volontà per ripulire l'Arno dai rifiuti. A Ponte Buriano, sabato 21 settembre, per la prima volta si incontreranno infatti Puliamo il Mondo e Argini Puliti. La grande campagna di sensibilizzazione ambientale promossa ed organizzata da Lega Ambiente Arezzo in collaborazione con Comune e Consorzio di Bonifica Due Alto Val d'Arno e Associazioni del Territorio si somma così all'iniziativa voluta dalla Fondazione Arezzo in Tour e realizzata in collaborazione con l'associazione T-Rafting. A partire dalle 15.30, decine di persone a piedi e in kayak esploreranno acqua e sponde per rimuovere plastiche e oggetti abbandonati. La giornata di pulizia, per la prima volta, si inserisce nella cornice della campagna Splasticando i Fiumi, sostenuta dall'autorità di Bacino Distrettuale dell'Appellino Settentrionale. Durante l'evento verrà presentata la mappatura del corso d'acqua realizzata dal Consorzio di Bonifica Due Alto Val d'Arno con T-Rafting che ha permesso il recupero di quintali di materiali. La partecipazione è dunque aperta a tutti, cittadini, famiglie, scuole o chiunque voglia dare una mano per migliorare il territorio.